Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica. Chi guardate vedrà consolidarsi sul Mediterraneo e sull'Italia un'area di alta pressione a garanzia di condizioni meteorologiche estive, dato che per diversi giorni non capiterà un granché. Un minimo di instabilità solo a ridosso delle zone montuose del nord. Vediamo la nuvolosità sull'Italia, come vedete di nuvole ce ne saranno ben poche. Il nord viene sfiorato da questi sistemi nuvolosi atlantici, ma solo l'arco alpino avrà qualche locale piovasco. In effetti se controlliamo la pressione delle precipitazioni vedrete che nelle ore pomeridiane si accendono delle macchioline azzurre, eccole qua sull'arco alpino, ma sono davvero fenomeni di breve durata e molto localizzati, nulla di più. Quindi di conseguenza domenica estiva in tutta Italia, sole protagonista da nord a sud, questa instabilità che riguarda l'arco alpino e la fascia prealpina, ma sono fenomeni davvero molto localizzati e isolati. Temperature per ora sopportabili, però in pianura padana e nelle zone interne delle regioni tireniche, già sfioriamo i 35 gradi all'ombra, in alcune zone li superiamo anche. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi anche poi nei giorni successivi, consultate l'app di Trebi Meteo.